No alla riconversione obbligatoria Tanti posti vacanti occupati da più di 15 anni dagli stessi ancora non stabilizzati. La nutrita rappresentanza dei professori ha così presentato al prefetto Carmine Valente un documento con le richieste riguardanti la loro posizione. Quello che noi vogliamo è il ritiro del decreto numero 7 del 16 aprile 2012 perché è illecito e contro ogni aspettativa perché docenti specializzati nel sostegno già ci sono. Ed esistono da anni, siamo una realtà, non si può cancellare con un decreto messo ad hoc per salvaguardare altri docenti che sono comunque specializzati nelle loro competenze e hanno per tanti anni lavorato nelle loro classi di concorso. Non si può dal primo settembre inserire altri colleghi con una riconversione di solamente 120 ore senza aver fatto tirocinio su posti di sostegno. Tra l'altro ci tengo molto a dire che sono situazioni molto delicate queste perché noi lavoriamo con degli alunni più delicati, più bisognosi di professionalità. I nostri corsi di specializzazione sono tutelati e sono orientati secondo la legge 104 sull'integrazione scolastica, gli articoli 12, 13 e 14 che prevedono l'integrazione dell'alunno in situazioni di handicap nelle classi normali, affiancati ovviamente da un docente di sostegno specializzato. Pertanto ci sembra che proprio questo decreto vada quasi contro la legge 104 che è una legge dello Stato del 92 che regolamenta proprio l'inserimento degli alunni insieme a un docente di sostegno specializzato. Noi abbiamo, come ha detto la collega, eseguito un corso biennale di specializzazione, abbiamo un diploma, abbiamo tante ore di tirocinio, abbiamo tante ore di lezioni frontali, di servizio. Noi ci sentiamo veramente specializzati, senza nulla togliere ovviamente ai nostri colleghi docenti il ruolo, per carità noi capiamo, però non si può lasciare in mano a docenti che in soli due mesi pensano di poter fare questa riconversione e quindi questa specializzazione. Grazie. Grazie.